Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio della Tana dell'Orco, la rubrica di Liberi Oltre le Illusioni, che si occupa dei saggi o dei volumi di storia con gli autori che hanno scritto, che hanno curato questi volumi. Oggi ci occuperemo in realtà di un paio di volumi, però il tema principale è l'immigrazione negli Stati Uniti, un tema sempre caldo, sempre ricorrente, però diciamo nel ventesimo e anche nel diciannovesimo secolo. Qui con me il professor Matteo Pretelli. Salve professore. Grazie per l'invito, grazie mille. Matteo Pretelli è professore associato di Storia dell'America del Nord presso l'Università di Napoli l'Orientale. Le sue principali pubblicazioni, a parte quelle che discuteremo oggi, includono monografie tra cui La via fascista alla democrazia americana del 2012 e Il fascismo e gli italiani all'estero del 2010. Ha curato anche il volume Le relazioni tra Italia e Stati Uniti dal risorgimento alle conseguenze dell'11 settembre, oltre ovviamente a pubblicazioni su riviste accademiche di rilievo, tra cui l'European Journal of American Studies, il Journal of Migration History e Modern Italy. Oggi il tema è l'immigrazione negli Stati Uniti e quindi discuteremo dei suoi due lavori, l'immigrazione negli Stati Uniti del 2008 insieme al professor Stefano Lucconi, mio relatore che saluto qualora magari guarderà questa intervista, e l'immigrazione italiana negli Stati Uniti del 2011, entrambi i testi editi da Il Mulino. E poi, proprio quest'anno, è stato pubblicato il suo ultimo lavoro, sempre insieme al professor Lucconi, Nazione di Immigrati o Fortezza Americana? Lascio la parola al professore, se ho dimenticato qualcosa può sempre aggiungere, e chiedere al professore di introdurre brevemente questi lavori, prima di andare poi nel dettaglio, diciamo, con l'intervista con le domande. A lei, professore. Sì, la ringrazio molto. Beh, sì, nell'arco della mia carriera accademica mi sono occupato prevalentemente di emigrazione e immigrazione negli Stati Uniti. Come lei giustamente ricordava, ho curato un libro sull'immigrazione italiana negli Stati Uniti, edito con Il Mulino, e con il professor Lucconi abbiamo realizzato due lavori, direi, speculari, perché il primo che citava, del 2008, l'immigrazione negli Stati Uniti, è un volume che tenta di essere una sorta di libro di testo, ma con una volontà di raggiungere anche il pubblico più generalista, che cerca di scoprire un po' la storia dell'immigrazione verso gli Stati Uniti nelle sue molteplici componenti. Quindi, di fatto, partiamo con l'età coloniale per toccare la campagna elettorale e poi l'elezione del 2008 di Barack Obama, infatti il libro di quegli anni. L'anno scorso abbiamo pensato di rivedere un po' le conclusioni di quel lavoro ormai datato e quindi abbiamo pensato di costruire un volume che ricostruisse in qualche modo evolversi del tema dell'immigrazione, del dibattito rispetto al tema dell'immigrazione, dall'11 settembre per arrivare all'altro ieri, perché tocchiamo l'amministrazione Biden. Siamo divisi il lavoro, abbiamo curato un'introduzione iniziale in cui parliamo un po' del sogno americano, cosa significa il sogno americano rispetto al mondo immigrato e le comunità etniche in senso ampio e ci siamo dedicati anche al tema della xenofobia, che alcuni declinano in termini di nativismo. Con Stefano Lucori ci siamo divisi il lavoro, io mi sono occupato in particolar modo dei presidenti repubblicani, quindi George W. Bush e Trump, mentre invece il professor Lucori si è occupato prevalentemente di Obama e di Biden. Quindi abbiamo cercato un po' di sviscerare questi temi e la loro complessità, tentando di rendere un libro fluibile per gli studenti, ma anche per il pubblico generalista e ci auguriamo quindi che in questi giorni particolarmente intensi, prima del 5 novembre, possa essere una lettura orientativa per chi ne vuol sapere di più. Grazie mille, poi ovviamente metteremo i link dei libri del professore in descrizione, così se siete interessati potrete in caso acquistarli. Però io appunto volevo partire un po' dalle origini, dal momento che gli Stati Uniti, se uno pensa a una nazione costituita da migranti, il primo esempio, l'esempio più grande che ci viene in mente sono appunto proprio gli Stati Uniti. Però, nonostante sia una nazione di immigrati, insomma, più e più volte nella storia ci sono state tensioni fra magari nuove comunità che arrivavano e quelli che stavano lì già da un po' di tempo. Infatti, proprio da qui volevo partire, seppur stiamo parlando di una nazione nata e basata sull'immigrazione, risulta particolare che perfino l'immigrazione tedesca, magari anche di skilled, dei lavoratori skilled, a un certo punto fu mal vista da molti cittadini, perfino per esempio da uno dei padri fondatori come Benjamin Franklin. Le volevo chiedere se questo appunto è un pattern ricorrente, se abbiamo svariati esempi di queste dinamiche nel corso della storia, insomma, per tutto il 1800 e 1900. Beh sì, come lei giustamente ricorda, Benjamin Franklin a metà del Settecento punta il dito contro le comunità tedesche, che sono molto numerose nell'America preunitaria, diciamo, e si accusano queste comunità di essere un po' troppo chiuse al loro interno, quindi di parlare prevalentemente tedesco, di continuare a cibarsi appunto con prodotti tedeschi e mantenere quindi dei tratti culturali apparentemente troppo legati al vecchio mondo. Ecco, e questo è una prima espressione di nativismo, quella di Benjamin Franklin, l'idea pertanto che gli immigrati in qualche modo non siano desiderabili perché non capaci di integrarsi nel tessuto sociale, nel mainstream sociale britannico al tempo. quindi in un paese che va definendosi, che ancora non è unito quando appunto Franklin parla, l'inglese già è lingua franca, cioè diventa un po' l'elemento che racchiude la complessità, che tenta di mediare rispetto alla complessità e quindi chi non apparentemente si lega ai precetti dell'americanismo e quindi i valori della libertà individualista che caratterizza quei tempi e poi nell'Ottocento la democrazia americana, democrazia con tutte le virgolette del caso perché ricordiamoci sempre che fino al 1865 negli Stati Uniti esiste la schiavitù, quindi i settori importanti della società americana sono esclusi dalla cosa pubblica e dalla partecipazione politica. Ecco, inevitabilmente vi sono persone che continuano ad essere così viste di mal occhio e si tenta di escluderle. Si tenta di escluderle soprattutto nei momenti di grave difficoltà economica, quindi l'economia impatta in maniera importante sui livelli di nativismo, sui livelli di xenofobia. In generale poi in tutta la storia americana, partendo dal Settecento per arrivare poi fino al ventunesimo secolo, si tende ad escludere le persone per il colore della propria pelle, per il proprio credo religioso, per la loro cultura considerata talvolta non assimilabile appunto a una cultura di stampa anglosassone e quindi abbiamo irlandesi, asiatici, italiani, ebrei, messicani, poi infine chiaramente arabo-musulmani che subiscono lo stigma di questa discriminazione e di questa xenofobia. È vero, è vero, però bisogna ammettere, riconoscere che non tutte queste minoranze hanno subito la stessa forma di discriminazione per lo stesso numero di anni. Alcune minoranze, come ad esempio gli irlandesi, hanno avuto successo dopo un iniziale periodo di discriminazione, altri per esempio come i cinesi nel 1800 rimassero in qualche modo chiusi nelle loro Chinatowns e quindi questo ci fa in qualche modo capire che questa cerchia del noi e del loro, dei più facilmente assimilabili e non assimilabili, si muove. Lei come, in parte ne ha già dato risposta, ma lei come spiega appunto il successo di alcuni gruppi etnici e l'insuccesso di altri? È solamente una questione dei gruppi etnici? Per esempio, magari gli irlandesi erano più predisposti a un certo tipo di azioni nella vita pubblica, oppure ovviamente ci sta anche dei discorsi di xenofobia che trascendono in qualche modo i valori americani e che quindi fanno sì che alcune minoranze abbiano avuto molta più fatica ad emergere a causa di un nativismo che poteva essere più pressante e più austero e più duro verso certe minoranze rispetto ad altre. Partirei da questo, lei ha utilizzato il termine persone assimilabili, assimilazione, ecco quando noi parliamo di assimilazione ci riferiamo a un concetto oggi probabilmente desueto nell'ambito del discorso storiografico e più in generale del discorso pubblico. L'assimilazione rimanda l'idea di una cultura mainstream considerata dagli stessi portatori di questa cultura come una cultura superiore rispetto a quella delle minoranze e pertanto capace di imporsi su queste minoranze stesse. Ecco, mi sembra che la storiografia si sia sempre più orientata verso una ridefinizione di questo concetto che non viene più utilizzato, quindi assimilazione se vogliamo viene più sostituito da concetti quali acculturazione o integrazione, che rimanda all'idea anche se vogliamo di una sorta di rielaborazione fra culture, cioè una cultura sicuramente maggioritaria come quella anglosassone tenta di imporsi sui migranti, ma i migranti a loro volta sono portatori di culture proprie che tendono ad interagire e quindi anche a modificare la cultura apparentemente dominante. Ecco, quella che lei propone è una domanda sicuramente difficile perché è chiaro che i vari gruppi etnici hanno momenti di acculturazione e integrazione diversi perché sono diverse le esperienze, diverse le fasi storiche, diverso anche il livello di xenofobia inevitabilmente subita. Quindi è difficile generalizzare, si possono vedere alcuni casi specifici. Gli irlandesi ad esempio sono un gruppo che passa attraverso una fase di discriminazione, vengono addirittura non considerate all'inizio come bianchi perché svolgono lavori particolarmente umili che sembrano quasi equipararli agli afroamericani, però gli irlandesi dal loro punto di vista hanno un vantaggio, parlano l'inglese, quindi questo facilita chiaramente la comunicazione, hanno a loro svantaggio il fatto di essere cattolici in un secolo d'Ottocento in cui essere cattolici non è qualcosa di particolarmente positivo nell'America protestante, però chiaramente riescono a sfruttare le proprie risorse per acquisire maggior peso politico in certe realtà, come ad esempio Boston che è la città irlandese per il freddo. Ci sono poi altri gruppi, pensiamo agli ebrei, gli ebrei riescono a sfruttare la loro grande devozione all'istruzione, nella cultura ebraica l'istruzione è importante, quindi questo permette loro di elevarsi da un punto di vista socioculturale. Poi gli ebrei acquisiscono un ruolo crescente all'interno dei sindacati e quindi riescono attraverso questi strumenti a sicuramente integrarsi. Di contro ci sono gruppi, come lei menzionava, i cinesi, che hanno grossissime difficoltà. Ricordiamoci sempre che nel 1870 la legge per la cittadinanza stabilisce che possono diventare cittadini americani soltanto quegli immigrati che sono bianchi e che sono africani o afrodiscendenti. Questo inevitabilmente esclude moltissime persone che provengono dall'Asia, in particolar modo i cinesi. I cinesi si vedono quindi esclusi dalla possibilità di diventare cittadini americani fino addirittura al 1943, poi ogni tipo di requisito verrà eliminato nel 1952. Con un'eccezione però possono diventare cittadini i figli degli immigrati cinesi grazie a una sentenza del 1898 che riconosce loro la cittadinanza sulla base dello use solid. Però, ricordiamoci anche, nel 1888 il congresso americano approva il Chinese Exclusion Act, che è una legge che di fatto impedisce agli emigranti cinesi di arrivare negli Stati Uniti e questo sarà un provvedimento di legge reiterato a sua volta fino al 1943. Capiamo bene, quindi, come vi siano certi gruppi, come appunto i cinesi considerati inassimilabili, portatori di una cultura incomprensibile spesso per molti americani, vengono di fatto sottoposti a un duro pregiudizio e questo a lungo li esclude, se vogliamo, da quello che lei definiva essere un po' il circolo del noi. Poi, con il tempo però, le cose cambiano, anche i cinesi e più in generale gli asiatici, come direi, si integrano nella società americana, addirittura negli anni Ottanta un gruppo specifico di asiatici coreani vengono considerati da Ronald Reagan come un modello, se vogliamo, di integrazione anche per il livello di impegno che loro mettono nelle attività lavorative, piccoli business che si vedono riconosciuti, quindi una sorta di valore proprio per l'etica lavorativa che essi portano. E quindi, come direi, per arrivare a una sorta di sintesi rispetto a questo discorso, inevitabilmente questo tipo di integrazione cambia con il tempo, a seconda delle generazioni e quant'altro, però sicuramente un elemento imprescindibile è il provvedere delle generazioni stesse. I figli e le figlie che vengono istruite nelle scuole americane crescono di fatto assorbiti da una cultura prettamente statunitense e questo spinge inevitabilmente le comunità a acculturarsi oppure a integrarsi. Sì, volevo precisare, quando parlavo di assimilazione non è perché a me piacesse questo termine, ho utilizzato propositamente per mettermi nei panni di un americano nativista del 1800 che discute su chi sia assimilabile e chi no. Poi ovviamente con il senno di poi e con gli anni si è capito che anche queste culture, che anzi l'America poi c'è la cultura statunitense, si è formata appunto grazie a tanti pezzetti di culture di altri paesi che sono poi emigrati negli Stati Uniti, però in quel momento probabilmente pochi si rendevano conto. Si discuteva tanto di come gli altri potessero appunto venire assimilati e non si capiva che in parte la cultura statunitense stava cambiando, si stava modificando grazie a tutti questi flussi. Questo è in mia discolpa. No, 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 ma per avvalorare le sue parole il concetto di assimilazione rimane tale fino agli anni 60, quindi lei fa benissimo utilizzare questa parola in un contesto storiografico perché effettivamente si parlava di assimilation come concetto fondamentale nell'ottica di integrazione di queste persone secondo i precetti del melting pot, cioè si richiedeva a persone provenienti soprattutto dall'Europa di spogliarsi della propria cultura di origine e quindi di far propri valori dell'americanismo diventando americane al 100%. Quindi si era proprio in un contesto di assimilazione forzata o quantomeno di tentativo di assimilazione forzata. Poi è chiaro che le culture minoritarie degli immigrati tentano di reagire rispetto a queste persone a questo movimento, però utilizzare la parola assimilazione è assolutamente corretto nell'ambito di un discorso storiografico. Prima lei appunto ha citato la parola proibita, bianco, chi è bianco, chi non è bianco. Noi ci accorgiamo che nel corso dell'Ottocento, ma anche del Novecento, cambia l'idea che la maggior parte dei cittadini statunitensi hanno di persona bianca, persona non bianca. Parlando di italo-americani, quindi adesso per un po' di tempo parleremo dell'immigrazione italiana. Gli italiani probabilmente sono un caso emblematico di questo popolo, di questo flusso migratorio che da non bianco viene poi piano piano considerato bianco, questo fenomeno di race whitening, credo si dica in inglese. Se ci può dire qualcosa in più, come ha fatto la comunità italo-americana dall'essere sicuramente una delle più discriminate tra fine Ottocento e soprattutto inizio Novecento a diventare bianca? Un po' come prima aveva accennato gli stessi irlandesi, da quasi non bianchi poi sono diventati bianchi a tutti gli aspetti. Dunque, su questi temi si è interrogato molto il suo professore Stefano Luconi che ha lavorato più volte con me e che si è molto interessato a questi temi. In linea generale diciamo che fra Ottocento e Novecento gli italiani vengono spesso percepiti come in between, cioè qualcosa a metà fra la bianchezza e la nerezza. Cos'è che gli porta ad essere percepiti come diversi e quindi neri? Una serie di fattori. In primo luogo il fatto che molti immigrati italiani negli Stati Uniti provengono dal sud, quindi il sud che geograficamente viene percepito dagli americani come più prossimo all'Africa piuttosto che all'Europa. Si tratta poi di persone, pensiamo anche al flusso particolarmente rilevante di siciliani alla svolta del secolo, persone che hanno un colore della pelle olivastro che richiama in qualche modo la nerezza. Vi sono alcune comunità italoamericane che venerano una Madonna nera, una Madonna dal colore nero. Di Loreto, no? Sì, esattamente. E quindi anche questo richiama inevitabilmente la nerezza. E poi soprattutto gli studi mi sembra si siano concentrati su quegli italiani che vivono prevalentemente in stati del sud come la Louisiana. Moltissimi siciliani vivono in questo stato, moltissimi siciliani dopo la fine della schiavitù emigrano per lavorare soprattutto nelle piantagioni e lavorano spesso a stretto contatto con gli afroamericani. Questa prossimità lavorativa che diventa spesso affettiva perché ci sono relazioni stabili tra afroamericani e italoamericani inevitabilmente colpisce l'immaginario pubblico che tende a considerare quasi speculari afroamericani e italoamericani. Ricordiamoci poi come nel 1891, sempre a New Orleans, in Louisiana, 11 siciliani vengono uccisi da una folla di persone locali bianche dopo che questi erano stati accusati di aver ucciso un poliziotto locale. E poi erano stati sciolti? Erano stati sciolti, esattamente, ma nonostante l'accusa nei loro confronti fosse caduta, la folla li considera colpevoli perché lo stigma è quello dell'italiano criminale, vengono presi forzatamente dalla prigione e vengono linciati. Ricordiamoci sempre che il linciaggio è una pratica particolarmente brutale e violenta che di solito viene riservata agli afroamericani con l'obiettivo di disciplinare il loro comportamento. Ovviamente utilizzo la parola disciplinare fra virgoletti, però il fatto che questi 11 siciliani ricevano questo trattamento ci dà l'idea in qualche modo di come questi fossero considerati al tempo come neri. Rispetto a questo processo gli italoamericani decidono di prendere un po' le distanze dagli afroamericani proprio nell'ottica di sbiancarsi in modo da essere accettati all'interno della comunità mainstream bianca. Pensiamo come ad esempio 1935-1936 Mussolini di Chiara Guerra all'Etiopia e nelle comunità italoamericane, soprattutto in quelle new yorkesi, si hanno degli scontri tra gli italoamericani che parteggiano apertamente per i fascisti di Mussolini e dall'altro lato gli afroamericani che invece sostengono la causa etiope. Al tempo, ci dice lo stesso Lucone, non c'è una sorta di scontro razziale, gli italoamericani non si presentano come bianchi ma piuttosto come espressione di una tra virgolette razza italiana, ma il fatto che si arriva a degli scontri fisici inevitabilmente spinge a segnare una sorta di rottura definitiva fra le due comunità. Durante poi la seconda guerra mondiale gli italoamericani che combattono in massa con le forze statunitense dimostrano attraverso il combattimento la loro apparente bianchezza. Successivamente, dopo la seconda guerra mondiale abbiamo una situazione in cui con gli anni 60, in particolar modo dopo gli anni 60, gli italoamericani entrano a far parte in gruppi di origine pan-europea che tenteranno di coalizzarsi a livello elettorale per sconfiggere eventuali candidati afroamericani nelle varie elezioni a livello locale in giro per gli Stati Uniti. La violenza poi diventa ancora una volta un elemento di rimente in questi decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale. Pensiamo come ad esempio, è rimasto celeberrima, l'uccisione di un giovane di un 17enne afroamericano in un quartiere italiano di Brooklyn, a Bensonhurst. Nel 1989 un ragazzo afroamericano che si ritrova, che passa attraverso il quartiere di Bensonhurst, viene picchiato brutalmente e ucciso da una mob, quindi da un gruppo di uomini italoamericani perché apparentemente per loro il solo passaggio di un afroamericano dal loro quartiere viene visto come qualcosa di assolutamente intollerabile. La violenza quindi contro gli afroamericani diventa un fattore che viene recuperato anche dalla cultura popolare. Pensiamo ad esempio ai film di Spike Lee che ci raccontano appunto questo atteggiamento particolarmente razzista nei confronti degli afroamericani da parte degli… Esattamente. Non soltanto quello, pensiamo anche a Jungle Fever per esempio, un altro bellissimo film in cui il pregiudizio raziale degli italoamericani è particolarmente rilevante. Però, come lei giustamente ricorda, do the right think, fai la cosa giusta, è emblematico di questo scontro razziale che esiste e che viene percepito e assorbito dalla cultura popolare. È molto interessante questo fatto che alcune minoranze quando riescono a ottenere, mi passi il termine, lo status di bianchi o appunto quasi 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 bianchi, poi… e questo è caduto più volte in tantissimi altri paesi, poi in qualche modo se la rifanno con le nuove minoranze diciamo discriminate, quindi gli italiani che magari passano dal subire all'essere tra i gruppi che invece appunto se la prendono con nuove minoranze oppure, come nel caso di afroamericani, diciamo non minoranze di migranti, però minoranze in qualche modo permanenti che rimangono per vari motivi sempre con una buona dose di discriminazione nei loro confronti. Ritornando appunto alla questione delle guerre degli italiani e degli italo-americani durante la prima e la seconda guerra mondiale che aveva accennato, questo è un tema che mi affascina molto, il tema tra immigrati italiani e guerre mondiali, soprattutto da un punto di vista di per esempio cittadinanza americana, cioè quanti italo-americani allo scoppio soprattutto della seconda guerra mondiale ancora sentivano quell'italianità che magari li avrebbe riportati a tornare in Italia, magari dopo 5, 10, 15 anni che non ci vivevano più per combattere al fianco dell'Italia e quanti invece magari che non avevano ancora mai chiesto la cittadinanza americana perché non importava loro di tanto, con lo scoppio della guerra si sono detti forse è meglio chiederla questa cittadinanza, cioè quanto effettivamente la figura di Mussolini è stata divisiva, è stata attraente o al contrario ripugnante, respingente nei confronti degli italo-americani? Semplicemente farei un riferimento alla prima guerra mondiale per arrivare poi successivamente alla seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale è un momento interessante, molto interessante per quanto riguarda il mosaico delle minoranze statunitensi perché la prima guerra mondiale in qualche modo spinge le varie comunità, compresi quella italiana, a parteggiare per le proprie terre di origine, pensiamo soltanto all'Italia come sostiene, scusate agli italo-americani come sostengono apertamente la guerra italiana contro l'impero tedesco e l'impero austro-ungarico, ma tutte le varie comunità si schierano, anche quella tedesca sostiene l'impero tedesco salvo poi successivamente quando gli Stati Uniti entrano in guerra nel 1917 contro l'impero tedesco cambiare chiaramente orientamento per una situazione chiaramente comprensiva. Ci furono anche problemi interni, se non ricordo male, soprattutto le zone con un'alta minoranza tedesca e questa paura che in qualche modo quella minoranza potesse mettersi di traverso, cosa che poi sappiamo tristemente successe, almeno non è che successe, però durante la seconda guerra mondiale ai danni dei giapponesi, ma questo è un altro discorso, i vari campi di concentramento veri e propri, però questo è un altro discorso, la paura americana delle minoranze provenienti da paesi che adesso magari sono ostili, come il Giappone, però chiusa parentesi. La sua considerazione più che legittima, se ci concentriamo solo sul Novecento, i tedeschi subiscono una forte ondata di sentimento antitedesco, proprio perché si teme che possano essere una sorta di quinta colonna, succederà lo stesso in particolar modo ai giapponesi, come lei giustamente ricorda, vengono detenuti in massa e lì c'è anche un pregiudizio di stampo razziale perché vengono internate anche le seconde generazioni, ma più recentemente pensiamo al post 11 settembre, le comunità arabo-americane che subiscono l'onta del fermo da parte dell'FBI, dell'arresto e via dicendo. Ecco, dicevo appunto che la Prima Guerra Mondiale è un momento interessante proprio per questi legami strutturali e nel caso degli italiani ce ne sono molti che ritornano in Italia per combattere o soltanto perché vogliono sfruttare la situazione della guerra e legarsi magari all'esercito americano per avere un passaggio gratuito per ritornare in Europa. Le motivazioni sono tante, ma generalmente si combatte a favore per l'Italia, circa 100.000 persone ritornarono, 300.000 invece si unirono all'esercito statunitense per combattere soprattutto in Francia. Siamo in una fase in cui gli aliens, cioè coloro i quali non hanno ancora acquisito la cittadinanza, sono molti in generale e quindi un po' in tutta la storia americana abbiamo questa tendenza a voler combattere da parte degli immigrati per, come dire, avere una via d'accesso alla cittadinanza. Se lei guarda oggi le forze armate statunitensi, molti soldati e soldatesse sono ispanici proprio perché vogliono in qualche modo favorire la loro integrazione nel tessuto sociale statunitense attraverso la concessione della cittadinanza che viene data di solito a chi viene congelato con onore. La seconda guerra mondiale invece è un momento diverso, come lei giustamente ci ricordava gli italiani americani hanno una sorta di simpatia per il fascismo e per Mussolini perché si guarda il fascismo in termini nostalgici, non si sa niente dell'ideologia fascista, ma apparentemente Mussolini è percepito oltreoceno anche dagli americani, non di… Anche dal presidente. Anche dal presidente, sì sì, ma Mussolini viene visto in termini di mascolinità, di successo politico e questo inevitabilmente spinge gli italiani americani a guardare con simpatia al regime di Benito Mussolini, sebbene appunto non se ne sapesse molto. Tutto cambia dopo la seconda guerra, scusate, dopo la guerra d'Etiopia che fa peggiorare le relazioni fra Italia e gli Stati Uniti, successivamente 11 dicembre del 1941, cioè quattro giorni dopo per Harbour, Mussolini dichiarà guerra agli Stati Uniti. Ecco a quel punto ogni forma di simpatia, presunta o reale nei confronti di Mussolini, sparisce. Gli italo-americani combattono in massa per gli Stati Uniti, ma non sono aliens perché le quote del 1921 e del 1924, il sistema delle quote che impone un drastico ridimensionamento dell'arrivo degli italiani, fa sì che inevitabilmente queste comunità accelerino il loro processo di integrazione. Quindi quando si arriverà alla seconda guerra mondiale a combattere sono soprattutto seconde generazioni ormai americanizzate che non hanno la necessità di acquisire la cittadinanza perché sono di fatto già cittadini americani, ma vogliono combattere per gli Stati Uniti perché si sentono completamente americani. Quindi il legame con l'Italia a quel punto va ridimensionandosi, coloro i quali decidono di tornare all'Italia per combattere con il fascismo sono una sparuta minoranza, si contano sulla punta delle dite, ma piuttosto si vuole combattere per gli americani per mostrare il proprio americanismo al 100%. Come dire, l'accusa che ci fate di essere stati in qualche modo filofascisti deve venire assolutamente meno attraverso la nostra capacità di mostrare il nostro spirito patriottico. Cioè molti tornarono per combattere a fianco per l'Italia durante la prima guerra mondiale, ma la seconda quasi per nulla. Quasi nessuna. Esatto, durante la prima guerra mondiale l'Italia e gli Stati Uniti sono alleati, quindi non c'è diciamo come dire una sorta di problemi, esattamente. Durante la seconda guerra mondiale invece se tu sei un italiano americano e torni a combattere per l'Italia, ecco allora il problema c'è senz'altro. Ha accennato appunto a questo fenomeno per cui quando l'immigrazione viene limitata, quelli che già appunto magari nei decenni scorsi erano immigrati, diciamo si integrano nella società più facilmente. Quindi le volevo chiedere appunto, insomma nello scorso secolo ci sono stati più periodi in cui effettivamente l'immigrazione negli Stati Uniti è stata limitata, le volevo chiedere se questo ha avuto, che effetti ha avuto mediamente sulla crescita economica statunitense che per tantissimi decenni si è nutrita comunque di mano un'opera non specializzata o medio specializzata estera e soprattutto per quanto riguarda l'integrazione di chi era emigrato nei decenni precedenti se c'erano stati degli effetti di maggiore appunto, ritorniamo con la parola assimilazione, integrazione, oppure no. Quindi sì, banalmente la limitazione di nuovi immigrati favori l'integrazione di quelli vecchi e come? Direi se possiamo fare l'esempio degli italiani ancora una volta. Si tenta di limitare l'accesso degli italiani attraverso un provvedimento di legge del 1917 che è il cosiddetto Literary Basic Act, cioè tu puoi entrare negli Stati Uniti soltanto se dimostri di essere in grado di leggere e scrivere almeno nella tua lingua di origine. Questo provvedimento non ha grandissimi risultati, tanto che nel 1921 e nel 1924 arriviamo ai cosiddetti quota ex che stavo menzionando in precedenza. Quindi alcune popolazioni, fra cui gli italiani ma anche gli ebrei, vedono di fatto ridursi drasticamente l'ingresso negli Stati Uniti. Ecco, gli anni venti sono un momento importante perché con il blocco degli arrivi dall'Europa gli italiani di fatto pongono fine a quel processo di circolarità che avevano in qualche modo portato avanti tra 8 e 900, vengono definiti uccelli di passaggio, perché avevano la tendenza a lavorare per un periodo dell'anno negli Stati Uniti e il resto in Italia, perché di fatto un immigrato cerca di massimizzare i propri redditi. Prendendo meno però la possibilità di dar vita a questa circolarità per paura di non essere riaccettati negli Stati Uniti, di fatto questa circolarità viene meno e quindi le comunità tendono a stabilizzarsi. Stabilizzarsi quindi è una conseguenza di questo blocco è una stabilizzazione, un rafforzamento delle comunità immigrate, le cosiddette Little Italies, che danno vita ad un processo di americanizzazione crescente. Ora, la questione economica difficilmente la vedo legata a questo, perché se noi guardiamo al caso degli italiani, inevitabilmente gli anni venti sono anni di crescita economica importante, parliamo di roaring twenties, degli anni ruggenti, quindi si potrebbe quasi ipotizzare che con il blocco dell'immigrazione cresce l'economia, però allo stesso tempo ricordiamoci nel 1929 passiamo attraverso la crisi della borsa di Wall Street che fa crollare inevitabilmente l'economia. Quindi mi sembra difficile poter trovare una correlazione così stretta fra blocco dell'immigrazione e crescita dell'economia. Non mi sembrano due fenomeni speculari. Ci avviamo verso la fine della nostra chiacchierata, che sto prezzando tantissimo. Appunto, per finire l'ultimo macro tema, lei appunto parlava di uccelli migratori, no? Sì. È un po' strano perché penso diciamo alla cultura di massa, si pensa agli Stati Uniti come land of opportunity che ogni migrante viene ammaliato dalle opportunità lavorative americane, non vede l'ora di americanizzarsi e va e si installa per sempre negli Stati Uniti e invece non è sempre stato così. Anzi, probabilmente, come ci ho appena spiegato, il fenomeno dell'immigrazione italiana, soprattutto fino al scoppio della Prima Guerra Mondiale, è caratterizzata da un alto tasso di rientro, che ho l'impressione che la storiografia a lungo, per decenni, abbia sottovalutato. Cioè, appunto, mettendo l'accento sull'unicità del fenomeno migratorio statunitense, i migranti vogliono rimanere negli Stati Uniti, magari appunto ha sottovalutato un tasso di rientro che magari poteva essere del 10, del 20, del 30, del 40, del 50%. Lei crede che, insomma, questo fenomeno sia reale? Cioè, veramente la storiografia solo di recente ha fatto i conti con questo aspetto, con il fatto che alla fine molti migranti sì, andavano negli Stati Uniti perché i salari erano più alti, però poi magari non è che per forza portavano tutta la famiglia, ma erano loro che rientravano e riportavano tutto ciò che avevano guadagnato in Mother Patria e che quindi, diciamo, il tasso di emigrazione sia stato un po' pompato perché magari si andava a studiare gli archivi di Ellis Island, si vedevano gli sbarchi, gli sbarchi dicevano che c'erano milioni e milioni di migranti, poi magari non si andava a vedere quanti di questi migranti l'anno dopo erano ancora negli Stati Uniti. Oppure, facendo avanti e indietro, mi passi il termine, magari erano emigrati più e più volte e sono stati conteggiati più e più volte nello studio delle migrazioni. Beh, allora, diciamo che la storiografia, almeno fino agli anni Sessanta, forse anche anni Settanta, la storiografia americana ha guardato i migranti soprattutto quando questi fossero arrivati appunto oltreoceano, cioè la tendenza era di guardare soprattutto alle comunità di immigrati negli Stati Uniti e quindi ci si disinteressava sostanzialmente a il luogo di partenza. Perché questo? Perché presupponeva appunto l'idea della Land of Opportunities, l'idea che il sogno americano si realizzasse negli Stati Uniti e quindi c'era interesse in una prospettiva, se vogliamo anche eccezionalista, di guardare inevitabilmente ai migranti nel contesto di immigrazione. Diciamo però che successivamente, direi in grosso modo dagli anni 90 del Novecento, la storiografia ha fatto dei passi dal gigante, ha cercato anche di dar vita a degli approcci più prettamente globali allo studio della migrazione, che recuperassero la transnazionalità dei migranti, cioè il migrante per definizione non è un soggetto statico che parte da un paese A e arriva in un paese B, ma piuttosto è un soggetto mobile che cerca di massimizzare i propri interessi anche attraverso la mobilità in altri paesi o in altri luoghi e via dicendo. Quindi questa circolarità, questi rientri, come lei giustamente ricorda, vengono sempre più studiati, si cerca di guardare anche ad un ritorno dei migranti nei luoghi di partenza. Quindi direi che la storiografia oggi è molto più dinamica, cerca di studiare la complessità, non guarda più soltanto alle migrazioni, ma alle mobilità in senso ampio. Per esempio i migranti possono tornare nella propria terra di origine come turisti, è un flusso che vediamo adesso con i descendenti di italiani, tornano in Italia magari da giovani studenti e riscoprono il paese da cui sono partiti i propri bisnonni. Quindi è un tipo di storiografia molto più dinamica che ha recuperato anche lo studio dei rientri. Nel caso degli italiani sappiamo che grossomodo tra gli anni 80 dell'Ottocento e gli anni 20 del Novecento qualcosa come il 50% del flusso dei migranti è ritornato, è ritornato anche in questo contesto di circolarità delle migrazioni. Ritornando a uno dei temi che si è toccati all'inizio, parlando di melting pot, oppure la nuova idea di società multietnica. Capisco che questa è un po' una domanda da un milione di dollari, però alla fine lei crede che ora come ora, nel tempo presente, questa tensione è ancora palpabile? Secondo lei c'è effettivamente una soluzione oppure in generale le società multietniche, America in primis, è destinata a combattere per sempre fra un'idea multietnica di mosaico culturale che comunque deve in parte scontrarsi con l'idea di valori comuni, assimilazione per comunque creare una società? C'è effettivamente una soluzione oppure si è destinata a vivere momenti più multietnici oppure momenti di maggior assimilazione, americanizzazione, culturalizzazione, decidiamo il termine più adatto, seconda. Diciamo questo, dagli anni 80 e del 900 è andata creandosi una società sempre più multiculturale, direi. Il multiculturalismo è diventato un po' il modello di riferimento, rispetto alla complessità del mosaico statunitense. Gli anni 90 in particolar modo sono diventati un momento di battaglia culturale legata alle minoranze, a scontri fra minoranze, gruppi etnici e quant'altro che tentano di acquisire maggiormente visibilità pubblica e quindi avere maggiore accesso a risorse pubbliche. Di fatto una società multiculturale come quella statunitense prevederebbe che nessuna cultura sia dominante rispetto alle altre e che tutte siano in qualche modo degne di rispetto e di essere valorizzate. È un multiculturalismo sicuramente non compiuto, sicuramente difficile perché le tensioni all'interno della società americana sono fortissime, poi soprattutto con Trump abbiamo avuto anche un risorgere di una sorta di suprematismo bianco che tenta in maniera patologica di proporre questa idea di una sorta di superiorità dell'uomo bianco rispetto a tutti gli altri. Un multiculturalismo è una struttura sociale sicuramente, come dicevo, incompiuta che può trovare, penso, l'unico modo di coesistere in maniera adeguata attraverso una piena valorizzazione di queste culture, tutte le sue forme, però all'interno di una valorizzazione di tutto ciò che in qualche modo è carattere comune dell'americanità, quindi l'idea del rispetto della libertà di stampa americana, l'idea del rispetto della democrazia, che mi sembra una cosa di non poco conto in una fase in cui la democrazia potrebbe essere addirittura messa in discussione. E non da queste minoranze, magari proprio da chi si fa portatore di valori americani. Esattamente, si fa portatore di un suprematismo bianco. Ecco sì, l'unico modo è tentare di smussare gli angoli, di mantenere e valorizzare la propria cultura, qualsiasi essa sia, però nel rispetto degli altri, nel rispetto di quei valori prettamente americani, che sono appunto la democrazia e la libertà americana nel senso buono del termine, direi. Spero di averle risposte. Sì, sì, assolutamente. Riconosco che è appunto una domanda un po' da un milione di dollari, perché si chiede qual è il modo migliore per avere una società più diversa possibile, ma che comunque sia legata da qualche principio grande che in qualche modo ci fa sentire tutti quanti fratelli americani, amici. Capisco che forse non c'è una soluzione probabilmente, comunque, un minimo di tensione ci sarà sempre. Comunque, grazie mille professore. Io, secondo me, non so se voleva aggiungere qualcos'altro. Io mi ero preparato una domanda, però capisco che adesso magari non c'è più tanto spazio, ma proprio al volo, al volo per sentire un commento, ma solo perché avevo voglia di, in qualche modo, farle fare debunking di questa teoria che gira tanto in ambienti un po' pseudo-storico complottisti, di questa vecchia ipotesi di Michele Pantaleone per cui la mafia ebbe questo ruolo centrale e chiave cruciale nella riuscita dello sbarco in Sicilia e se, insomma, ci poteva smontare oppure dire no. Effettivamente c'è un fondo di verità, ma proprio brevemente non le voglio rubare altro tempo. No, ma è un grande mito questo che risale appunto al libro di Pantaleone degli anni Sessanta, che però mi sembra essere stato completamente decostruito da un grande storico della mafia che è Salvatore Lupo, che ha scritto un libretto, mi sembra l'anno scorso, in cui di fatto rende conto di come effettivamente la mafia non abbia aiutato gli alleati per lo sbarco in Sicilia, semplicemente non vi è evidenza archivistica rispetto a questo. Quindi è un grande mito che è stato costruito, ma che mi pare Lupo decostruisca in maniera sicuramente efficiente. Semmai, sempre lo stesso Lupo lo sostiene, probabilmente la mafia, in particolar modo Lucky Luciano, questo mafioso di New York che controllava di fatto il porto di New York, ebbe un ruolo importante per sostenere le autorità americane rispetto a potenziali, a proteggere appunto il porto di New York rispetto a potenziali atti di sabotaggio che potessero essere compiuti da agenti dell'asse. Quindi l'idea di fondo fu di appoggiarsi al controllo che Luciano aveva della forza lavoro del porto di New York per evitare questi atti di sabotaggio che avrebbero non soltanto colpito inevitabilmente l'economia statunitense, ma anche il prestigio degli Stati Uniti stessi. Quindi probabilmente sì, vi fu questo sostegno di Lucky Luciano per la protezione del porto di New York, ma sicuramente non un aiuto della mafia agli alleati per lo sbarco in Sicilia. Questo direi lo possiamo escludere per certo. Perfetto. Altro ricordo ai nostri iscritti, a chi sta seguendo questa splendida conversazione. Noi abbiamo intervistato Salvatore Lupo circa un annetto fa per quanto riguarda il tema della trattativa Stato-Mafia. In caso anche questo metterò il video in descrizione. Molto interessante, secondo me, uno dei video più riusciti del canale principale, se non ricordo mai. Io sono soddisfattissimo perché credo che sia stata veramente veramente interessante questa, diciamo, dive into la storia dell'immigrazione statunitense, appunto tema che sia storico sia attuale, si mischia e sempre, a mio avviso, interessantissimo e cruciale. Definisce di fatto la storia americana e ultimamente magari se ne sta parlando un po' di meno da un punto di vista di campagna elettorale che mi risulti in questo momento non è il tema più caldo su cui stanno discutendo i due candidati, Harris e Trump, però sicuramente prima o poi riverrà fuori. Sicuramente. Specialmente se vincerà Trump è un tema di cui sentirà parlare. Io, professore, la ringrazio. Spero che le sia piaciuta, insomma, chiacchierata. E a tutti quanti quelli all'ascolto, noi ci vediamo a un prossimo episodio appunto della Tana dell'Orco. Se vi piacciono i nostri contenuti, ovviamente, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate commento, tesseratevi all'associazione se siete proprio fan accaniti e noi ci vediamo al nostro prossimo contenuto. Ciao a tutti, ciao a tutte, arrivederci all'eprocessore.